Ciao a tutti ragazzi! Oggi sono su Roblox in questo gioco che si chiama Brookhaven insieme ad Alissa. Ciao Alissa! Ciao! Ok, siamo collegate con Discord, quindi la voce potrebbe arrivare un po' in ritardo o così così, però speriamo che funzioni. Sono questa con i codini. Alissa, tu dove sei? Sono questa con i capelli arcobaleno. Capelli arcobaleno? Ah, eccola! E chi è questa qui che dice Ali con i capelli marroni? È una mia amica che ha detto ciao mamma di Ali. Ah, ok! Ciao, ciao! Allora, Alissa, io è la prima volta che gioco su questo gioco, quindi non so come funziona e cosa bisogna fare, perché io gioco sempre su Adopt Me. Quindi mi devi anche un po' spiegare come funziona, ok? Sento se ti arriva una cosa. Questo? Oh, sì! Ma ti sono salita in testa! Guarda! Ecco, ora possiamo andare. Vedo. Dai, senti. Allora, andiamo a prendere una tua casa e poi tu mi avevi proposto di fare una cosa. Uh, guarda, aspetta, ma lì c'è una sala giochi. Come faccio a scendere? Voglio andare a vedere. Aspetta, aspetta, che cos'è? E mamma, guarda cosa ti do. Una bella torta. Ah, grazie. L'ho presa. Ora me la voglio mangiare. Posso mangiarla? Beh, no, però si può tenere. Ah, vabbè. Vado in giro con sta torta in mano così. Allora, Alissa, dai, andiamo a prendere la tua casetta e poi facciamo una cosa carina che mi avevi detto prima. Voglio andare a vivere nella casa 22. Ok. Qua adesso è diventata casa di Alissa Anguria. La casa si costruisce in automatico? Uh-huh. Mamma mia, che grande! È enorme! Allora, questa casa è enorme e bellissima, però per esplorarla tu avevi avuto un'idea molto originale. E cioè quale? Giocare a nascondino! Ok. Allora, tu ti vai a nascondere e poi io vengo a cercarti, ok? Mi metto qui fuori così non vedo dove vai. Mi dici quando hai fatto e poi vengo a cercarti. Io non guardo, eh. Anzi, guardo qui, quest'altra casa. Mi guardo un po' intorno, mi faccio un giretto. Uh-huh. Qua c'è un benzinaio, mi sembra. Qui non mi troverai mai. Dove si sarà nascosta? Hai fatto? Sì. Ok, arrivo. Allora, vediamo un po' se è qui dietro. Qua c'è un tavolo, non mi pare che ci sia. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua dietro non c'è. Ok, andiamo a vedere il piano di sopra. Beh, ma qui non mi troverai mai. Non ci sono pareti trasparenti ed è un nascondio perfetto. Aspetta, qui c'è quella tua amica che sta salendo. Vediamo un po' se magari ti aveva trovata. Hmm, qui dentro forse. Ma quanto è grande questa casa? Aiuto, enorme. Qua c'è la cabina armadio. Forse è qua. Ecco ti, ti ha trovata. Quello era bello come nascondiglio. Dai, adesso tocca a me. Tu esci fuori e mi raccomando non sbirciare dove mi nascondo. Ok, stai girata a non fare l'imbrogliona. Che io neanche la conosco la tua casa, quindi non lo so se troverò un nascondiglio buono oppure no. Allora, vediamo un po' dove mi posso mettere. Allora, magari mi metto qui. Vediamo se mi posso accucciare. Così, eccolo. Sì, sì, sì. Ok. Vai, ho fatto. Ok. Vediamo se mi trovi. Oh, che bella luna. Hai detto che bella luna. No, 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 no. Uffa, ma mi hai già trovato. Ma ti vedi? Ma come, vabbè, ho capito. Ma mi ero nascosta qui, mi ero anche messa seduta. Guarda, mi muovo anche così. Sì, ma almeno, guarda, ti metti così. Ah, perché se mi mettevo così non mi vedevi. Guarda, è più piccolo. Hai ragione. Vabbè, come fai a rimpicciolirti? Ma io non le so queste cose. È la prima volta che ci gioco. Vabbè, vabbè, vabbè. Per ora, vabbè, siamo pari. Perché anche io ti avevo trovato. Comunque adesso esco. Hai fatto? Sì. Ok. Arrivo, arrivo, arrivo. Eccoti. No, no, questo è il tuo simbolo sulla casa. Vediamo un po'. Secondo me sei qui in garage dietro la lavatrice. No, non c'è. Ehm, vabbè. Allora, secondo me si è messa qua in bagno, nella vasca da bagno. No, non c'è. Aiuto, sono caduta nel lavandino, nella vasca. Sono entrate delle persone. Una è entrata con un hoverboard. Qui c'è un'invasione. Vabbè, non importa. Io continuo a cercarti. Facciamo finta di niente. Eh, qua non ci sei. Dov'è? È troppo. Sono troppo messa bene. Ma tu mi hai visto passare? Eh, sì. Cioè, ora no, non ci vedo più. Ah, prima mi hai visto. Quindi io sono passata vicino. Dov'eri? Eh, sì. Ah. Allora, aspetta. Secondo me sei qua sopra. Allora, mia cara Alyssa. Ma quanto piccola sei diventata? Perché se sei minuscola non sa come faccio a trovarti. Sono vicina. No, ora no. Ah, ero vicina? Allora sei qua. Allora, intanto sei molto vicina perché... Lì dai su. Dov'è? Ma che sei? Nel water? Ma non... Aspetta, un attimo che mi sca... Un attimo che devo fare la pipì. Non guardate. Scusa. Eh, scusa. Eh, vai vai, ma stavo facendo un attimo la pipì. Eh, vabbè. Quando scappa, scappa. Aspetta, sei nella dottima. Aspetta, sei vicina, sei vicina, sei vicina. Cosa, vicina? Dove sei? Aspetta, in balcone. Aspetta. Aspetta. Forse è qui, forse è qui. Eh, ma dov'è? Ma dove sei? Ma questa, mamma. Ma no, vabbè, ma non è valido. Ti sei cambiato aspetto. Non avevamo detto questa regola. Ma scusa, ma aspettate un attimo. Ferma, ferma lì dove sei. Non ti muovere. Dove sei? Torna qui. Fermati, fermati. Allora, adesso guardate che come si è cambiata l'aspetto. Allora, io cercavo una con i capelli arcobaleno. Invece lei si era modificata in questa specie di pupazzetto bianco e io non ti potevo riconoscere. Sei un'imbrugliona. Eh, non si fa così. Mamma, qualcuno però mi ha derubato. Guarda. Come ti hanno derubato? Oh no, che ci avevi messo lì dentro? Soldi falsi. Ah, soldi falsi. Vabbè, allora, tanto erano falsi. Vabbè. Senti, prima di chiudere questo video, io voglio andare a farmi un ultimo giretto qui intorno. Comunque è stato divertente giocare a nascondino, anche se tu sei un'imbrugliona. Un attimo, mamma, ferma. Guarda che faccia che hai. Ok, mamma, ti porto con questa macchina. Si parte, portami in un bel posto, eh. Mamma, la macchina si è sporcata. Ma come? In due secondi. Intanto si sta scaricando, perciò la benzina. Ah, ok, facciamo il pieno e poi portala all'autolavaggio. Guarda, mamma. Wow, ma si può fare tutto in questo mondo? Quasi. Ok, è piena. Ok, perfetto. Ora, siccome è sporca, mamma, dobbiamo lavarla, no? Eh, sì. Ma io devo scendere o posso rimanere a bordo? Può rimanere a bordo. Ui! Bello! Vediamo un po'. Wow, si è lavata davvero! Si sta lavando. Bellissimo! Si è lavata! Hai visto? Sì, sì. C'è un parco giochi in questo mondo? Beh, c'è la piscina. Ok, dai, andiamo in piscina. Oh, mamma, non riesco più a guidare. Oh, 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 prima che cadi, io lo sapevo, lo sapevo che facevi questo, guarda. Lo sapevo e sono scesa appena in tempo. Ma adesso io, mi posso fare il bagno in questa piscina con i rottami, secondo te? Un attimo, mamma. Ecco. Ah, ok, è già ripulito. Ok, dai, mi faccio un bel tuffo. C'è scritto, attenzione pericolo. Vediamo un po'. Oh, mi ha fatto saltare davvero. Oh, bello. Dai, un ultimo scivolo. Insieme però, eh, pronti? Uno, due, tre, via. Oh, aiuto, aiuto. No, sono scesa di testa. Vabbè, Alissa, andiamoci a prendere un bel gelato. Io pensavo che era vicino alla gelateria, invece è lontanissima. Eccola, eccola, la vedo. La vedo, la vedo. Ecco. Arrivo, arrivo. Gelati, gelati. Ok, siamo arrivati alla gelateria. Io mi prendo questo gusto a torta di compleanno, che mi piace. Ehi, qualcuno mi ha rapito con un carrello. Aiuto, Alissa. Sono stata in dire vita. Però mangio il gelato come se niente fosse. Lasciatemi stare. Voglio mangiare il mio gelato. Mamma, io mi prendo il gelato dei puffi. Io e Alissa ci godiamo il nostro bel gelato. E quindi vi possiamo salutare e ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti